Aspettando Capodanno con noi fa tappa nel comune di Villa Collemandina. Io sono qui con tre personaggi straordinari perché dovete sapere che in questo comune c'è un presepe vivente da quanti anni? Tantissimi. Sì, dal 2002. Quindi si ha questa manifestazione con tanta gente che partecipa. Lei è un... Pastorello. Pastorello, si vede. Si muove un po' la Pastorello. Lei invece chi è? Una filatrice. Una filatrice che si mette lì. Lei invece? Io faccio il formaggio. Buono il formaggio. Eh, buonino. Mi riesce anche bene, mi viene buono, sì. Mi viene buono. Allora, come tutti i comuni della Garfagnana, sono comuni attivi, attaccati alle tradizioni, eccetera. Ma non di solo presepe vivente vive Villa Collemandina. Lo scopriremo dopo la sigla. E' giusto qui, è giusto. Fatemi strada, fatemi strada. Ci siamo, amici di Villa Collemandina. Ben trovati! E' il sindaco aspettando Capodanno con noi. Lei l'ultimo dell'anno lo sa dove deve venire. Deve venire in piazza Umberto a Castelnò e deve ballare con Manolo Strimpelli. Sì, se è caldo, se è freddo. No, 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 se fosse brutto tempo abbiamo un tendone, un capannone organizzato. Quindi in ogni caso venga Pastorella, non mi stia fuori dall'inquadratura. Mi presento un po' tutti questi signori. Allora, prima però voglio fare un po' di esami al nostro sindaco. Si metta le cuffie. Numero di abitanti di Villa Collemandina. 1.400 circa. Nome e cognome? Ah, no, scherzo. Allora, poi frazioni. Frazioni? Quante? Sette. Me le dica tutte. Magnano, Caniciano, Corfino, Masa Sassorosso, Sassorosso, Pianacci. E su me sette reddi Roma ne manca sempre. E Villa Collemandina. Applauso al sindaco che ha indovinato. Capoluogo, Villa Collemandina. Capoluogo, se l'hai dimenticato. Attenzione, con chi confina Villa Collemandina? Con Castiglione, San Romano, Pieve Fosciana, Sillano. Bene, allora ci presenti un po' gli ospiti della puntata odierna. Questo baldo giovane, che è qui dove c'è tutta questa schiera di cultura molto bella. Non ci impagliamo, ci rimpagliamo, scusa Abramo. Lui chi è? Eh, è Gioele. È un ragazzo che produce, è un coltivatore di castagni, cioè dei castagnetti, e produce farina di castagne. Come mai, così giovane, hai deciso di intraprendere questa attività? Perché quando ero piccolino ho preso la passione dai miei genitori e dai miei nonni. E quindi prosegui. Bravo, così che si fa. Questo signore invece è qui? E' Amedeo Vanoni, è un naturalista, uno che gli piace la natura, è già dirigente del Corpo Forestale dello Stato, in pensione si diletta alla ricerca di spazi particolari, alla ricerca di animali, a vedere animali, a filmare animali. Ecco, allora, venga qua. Mi hanno detto, io ho un problema, mi devo aiutare, io ho un bimbo di nove anni che da grande, si chiama Ettore Pietro, vuole fare addestratore di aquile. Io devo spiegare che le aquile non si addestrano, però qui ci sono le aquile. Ci sono le aquile, da sempre. Qui le aquile sono arrivate prima dell'uomo. Ecco, ma è vero, no? Perché Abramo mi dice, ho filmato le aquile, ho filmato le aquile. È vero che ha fatto una ripresa incredibile? Magari mentre noi stiamo parlando per la magia della televisione, Abramo potrebbe anche mandare in onda questo volo dell'aquila che è unico e imperdibile. Che aquila era? L'aquila reale. Reale? Eh sì, l'aquila reale. Una grande emozione sta. E ci abbiamo anche, che lo filmate io, quando dà da mangiare l'aquilotto al nido. Che meraviglia, che meraviglia. Bisogna convincerlo. No, no, ma io sono sicuro che qualcosa stanno vedendo, ne sono sicuro. Sindaco, Paese delle Aquile, qui posto eccezionale, uno scenario incredibile, naturale, veramente bello, bello, bello. Lei adesso si farà nemico tutto il comune, però mi deve dire qual è lo scorcio che gli piace di più, a parte quello di casa sua, immagino. Però dico, c'è una parte del comune che proprio ha, dice, bello. Sulla Pagna di Corfino c'è un panorama bellissimo, si vede tutta la Garfagnana, magari si vedono tutte le apuane, c'è un panorama bellissimo. Penso che va dal di là dell'appartenenza a una comunità perché è patrimonio di tutti, queste immagini, questi panorami, queste bellezze. La Pagna di Corfino, chi sa, bello, bello, dove nidifica l'Aquila, come diceva Vanoni, è il punto dove nidifica l'Aquila, la Pagna di Corfino. Bene, allora qui, qui vedete, ci abbiamo, scusi sindaco, ci abbiamo il reparto musica che è un reparto incredibile a Villa Colle Mandina perché addirittura abbiamo due bande, poi abbiamo un rappresentante provinciale, lei fa parte del? Del Consiglio Provinciale dell'Ambima. Ambima che vuol dire? L'Associazione Nazionale delle Bande Italiane Autonome. E qui a Villa Colle Mandina ci sono due bande, lei che banda rappresenta? Io ho la filarmonica Pietro Mascagni di Corfino. Quanti siete? Siamo 35 effettivi e la maggior parte ragazzi giovani. Siamo fieri di questo. Lei è il maestro? No, io sono il presidente e il maestro è Cristiana Guidi, la maestra Cristiana Guidi. Voi invece che banda rappresentate? La banda di Villa Colle Mandina, Santa Cecilia, siamo 25 elementi e il maestro è Stefano Bennacchi. Devo dire che chiaramente la vostra è meglio, tanto non te ne è meglio. No, volevo dire applauso! Aspetta, aspetta. In realtà, andando bene a analizzare, la media è la vostra, no? Certo. Applauso! Lei che le rappresenta tutte e due, che dice? Dico che sono belle realtà entrambe e entrambe le associazioni si prodicano in attività di volontariato tutto l'anno, sia per animare le festività religiose e anche le cerimonie civili, come il sindaco può ben testimoniare. E entrambe le realtà, sia la Filarmonica Pietro Mascagni che l'Associazione Filarmonica di Villa Colle Mandina, organizzano durante l'anno vari eventi musicali che ci rendono felici, perché senza musica appunto non si potrebbe andare a... E allora viva la musica! Viva la musica! Passiamo in quest'altro reparto di Villa Colle Mandina. Qui chi troviamo? Qui troviamo il presidente della Prologo di Villa Colle Mandina, è lui, Davide Tellini, e la sua collaboratrice, Ilaria. Lei di che cosa si occupa? Io sono il presidente della Prologo di Villa Colle Mandina e mi occupo un po' delle faccende che fa la Prologo di Villa Colle Mandina. Mi dicevano, venendo su, io ho preso un caffè, mi sono un po' informato, che voi fate una festa in un luogo fantastico, spettacolare. Che festa è? È la Sagra della Trota, che viene svolta nella località Vallicori, che si trova tra la frazione di Magnano e la frazione di Massa Sassorosso. Tanta gente? Sì, sì, tantissima gente partecipa a questa festa, che ormai è 28 anni che viene svolta. Senti, ma la trota come viene cucinata? Che tipo di festa è? La trota viene fatta alla griglia, viene condita dal nostro personale che ci aiuta ormai da tantissimi anni. Possiamo dire che è una trota locale perché viene appunto dall'allevamento qui della famiglia Grassi, che si trova proprio nel comune di Villa. Ecco, guardava lei, quindi lei è quella che alleva le trote? Esatto, cioè sono una socia dell'allevamento ittico Grassi Fabiano. Abbiamo due allevamenti, uno qui a Villa Colemandina e uno in località Ferriere di Careggine. Senta signora, ma queste trote così belle, buone, sono proposte dai ristoranti della Garfagnana? Peccato, soltanto un ristorante in Garfagnana si serve da noi per le trote e lui, ho visto che ha molta richiesta da parte dei clienti, altri ristoratori non viene usata. Allora facciamo un appello subito qui da noi tv a tutti i ristoratori della Garfagnana, avete un prodotto eccezionale che nasce solo qui, quando uno va in un posto vuole mangiare le cose del posto e quindi le trote che vengono su in maniera naturale, sono una delizia della natura per cui ristoratori proponete le trote della Garfagnana, avete un'altra arma in più oltre al farro, oltre al formentone, oltre a mille cose buone, c'è anche la trota, proponetela. Lei chiaramente è d'accordo, tutti sono d'accordo, viva le trote di Colle Mandina, applauso se no vado via. Questo giovanotto, fai un passo avanti, è cresciuto a pane e trota si vede, che ti occupi te, che fai te, che lui è? Lui è? Ce lo dice il signore. È uno dei coordinatori, degli organizzatori della festa a Corfino, un passo nel passato. Un passo nel passato, un passo avanti, sempre un passo nel passato, abbiamo anche le donne, certo. Che cos'è questa festa? Guardate là, un passo nel passato, bellino il titolo, è una bella assonanza. Sì, è una festa che rievoca le tradizioni del nostro paese, le tradizioni contadine, quindi si parla dei vecchi mestieri, si fanno vedere come si praticamente svolgevano le attività all'epoca, non tantissimi anni fa, però ci sono parecchi persone che oltre a fare non solo i figuranti, perché nella loro vita passata hanno fatto anche proprio quello che fanno vedere, non lo so, ferrare i cavalli, fare il pane con le mani, con le patate. In questi mestieri si riesce a tramandarli un po' ai giovani? Secondo me sì, è possibile, non è facile, ma queste feste e queste opportunità che la gente ha di venire a vederli può stimolare anche la voglia ai giovani, alle nuove generazioni, di imparare un qualche cosa che non hanno mai visto e questo serve proprio per far conoscere loro ciò che siamo stati. Bravo, mi dici come si chiamava il tuo nonno? Si chiamava Abilio Manetti. Oh, è stato anche sindaco, io mi informo, mi informo, ma il nome è strano, Abilio, eh? Sì, il nome era strano, ma una grandissima persona. No, no, per carità. Allora, voi fate un passo avanti. Vedete, qui abbiamo Silvia della Casa di Lato, anche di qua, invece qui abbiamo Marta, sempre della Casa di Lato. Bellina la Casa di Lato, che cos'è? È un'associazione giovanile del paese di Corfino e diciamo in maniera volontaria cerchiamo di promuovere il nostro paese sia a livello culturale e quindi ad esempio ci siamo occupati della creazione di cartelli turistici affissi nei posti più importanti di Corfino, sia a livello di promozioni turistiche e quindi abbiamo collaborato anche noi alla festa un passo nel passato e organizziamo, soprattutto durante il periodo estivo, varie feste sempre per la promozione. Oh, ha detto tutto lei, eh? No, ma qualcosa si può aggiungere, pensaci. Che comunque invitiamo anche tutti i giovani, vogliamo includere anche gli altri giovani degli altri paesi del comune di Villa Collemandina per fare qualcosa insieme, non solo di Corfino. Bene, questa inclusione è importante, no? Anche perché ora tra poco forse si includono i comuni. Noi siamo stati a fabbriche di Vergemoli, dove c'è stata la prima unione e si va verso questo passo che potrebbe essere vantaggioso per tutti. Allora, questi altri signori me li presenta? Sì, sì, il nostro assessore di massa Sastorozzo, Mannellino. Venga qua, un passo avanti. Lei è assessore alle? No, sono consigliere. Consigliere, scusa. E di che si occupa all'interno del Consiglio? Di tutto un po'? Sì, sì. Questo signore? È il vice sindaco. Oh, vice sindaco! Allora, come andiamo? Andiamo bene. Tutto bene? Sì, bene. Mi trovo d'accordo. Mi trovo d'accordo con lui? Sì, il suo papo è là. È stato il primo sindaco dopo là. Il primo sindaco. Dopo ve li facciamo vedere. Tutti i sindaci in fila e poi finisce la parete della serie. Dopo di lui non c'è più nessuno. No, no, finito. No, no. Allora, qui invece questo baldo giovane? Sì, sono Alessandro Pennacchi, consigliere comunale e mi occupo di collaborare. Sei il più giovane consigliere comunale che è qui? Sì, sono il più giovane. Quanti anni hai? No, 33. Villa Colle Mandina. Villa Colle Mandina. Consigliere. Questo signore invece? Anch'io sono consigliere Graziano Chesi. Rappresento la frazione di Sulcina. Sulcina. Piccolissima. Più che frazione ha un'organità. Ho capito. Bene. Allora, siamo pronti per gli auguri finale. Dobbiamo metterci in postazione. Pronti allora per gli auguri finale? Venga sindaco. Lei si metta lì nel mezzo. Da questa parte si dice aspettando Capodanno e io dico con noi. Ok? Proviamo prima. Poi si fa. Vai. Aspettando. Capodanno. E io con noi. E poi si fa l'applauso e si va avanti. Allora siamo pronti? Siamo pronti? Voglio sentirlo bello tosto. Uno, due, tre. Vai. Aspettando. Capodanno. Con noi da Villa Collemandina. Gli auguri del sindaco. Guardi là e faccia gli auguri per un anno nuovo. Ecco, tanti auguri di buona fine, buon principio, un felicissimo 2016. Grazie.